Altri tre punti per dare continuità. Questo è il concetto che Little Service Pesaro ha ben in mente preparandosi alla sfida di venerdì 18 novembre delle 20.30 al Palafiera di Campanara, dove ad attenderle ci sarà il Ciampino Agniene. Quella continuità che da inizio stagione per la squadra di Colini non è ancora arrivata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, proprio quando l'allenatore romano è tornato a sedersi sulla panchina dopo i tre turni di squalifica, la sua squadra è tornata alla vittoria dopo cinque giornate. Ed è proprio dall'8-2 messo a segno da Little Service domenica scorsa sul campo del Pistoia che deve proseguire il cammino dei biancorossi verso la risalita in classifica. Una rimonta non impossibile considerando che i play-off distano ora solamente due punti e che i cocci persi nelle prime giornate di campionato adesso si stanno riassemblando. Ritrovate due pedine importanti come canale dal CIN, i biancorossi stanno aspettando il recupero del capitano Tony Dandel, João Miguel e Fortini, alle prese con infortuni. Concentrandoci sugli avversari, il Ciampino a Niene non arriva da un buon momento di forma, tre le sconfite nelle ultime quattro partite per i laziali che si presentano all'appuntamento di venerdì con quattro punti in piena zona retrocessione. Sembra dunque tutto apparecchiato per un'altra serata di grande tifo al Palacampanara, dove per l'occasione la società biancorossa ha informato che tutti i supporter presenti per l'occasione potranno acquistare la nuova maglietta da gioco del Little Service in promozione al costo di 45 euro anziché 55. Oltre a questa novità, venerdì è prevista anche un'attesa visita. La società Fenix Ischia, che ha sposato il progetto affiliazioni lanciato in estate da Little Service, sarà presente al Palafiera per tifare i biancorossi. Ma non solo, perché sabato ci sarà una giornata dedicata a loro dove i giocatori della società affiliata avranno la possibilità di allenarsi seguite dallo staff tecnico di Pesaro. Poi nel pomeriggio andrà in scena un torneo tra Little Service, Fenix Ischia e Grottaccia, altra società affiliata a Pesaro. Dal calcio a 5 alla palacanestro, con Little Service Loreto Basket che fa un plane, infilando la sesta vittoria su sei gare disputate. 83-44 a favore dei gialloblu che dominano sul parquet tradizionalmente ostico dell'Atomica Spoleto. Loreto Basket che non si accontenta perché per restare in vetta occorre ottenere il massimo anche dalla prossima partita, che vedrà gli uomini di Coach Foglietta scendere in campo alla palestra di Baia Flaminia contro la MEC System Urbagna, sabato 19 novembre alle ore 18.